dove vedo la disperazione oggi è quasi più facile forse a volte dire dove non la vedo perché sono veramente tanti gli esempi quella che a me più ferisce forse è quella legata alla rassegnazione cioè sei rassegnati quindi sei disperato sei rassegnato perché sei stanco sei rassegnato a volte perché sei pigro sei rassegnato perché non hai gli strumenti o non hai le risorse sei rassegnato perché magari ci hai provato sei caduto e non t'hanno insegnato a rialzarti non ti hanno detto che comunque si può anche sbagliare e ci puoi anche riprovare c'è la rassegnazione data dal anche a volte come scelta comoda no credo per anche per potersi lamentare per poter sperare in un aiuto dall'alto credo che sia questo un elemento di disperazione su cui riflettere proprio la rassegnazione che è un freno è un grande freno per la società è un freno credo per i giovani è un freno per tutti una promessa non mantenuta insomma a parte che è sempre una missione di colpa quindi non è facile credo che siano le tante promesse che non si riescono sempre a mantenere nei confronti dei figli almeno per me è questo no il dire sì ci sono il conta su di me il sì arrivo puntuale a quell'appuntamento arrivo puntuale a prenderti a scuola o dopo quell'allenamento e non non farcela quindi anche l'uso del sì ti prometto che ci sarò e poi a volte il lavoro a volte le scelte a volte difficoltà anche oggettive e si cerca sempre delle delle giustificazioni no alla fine diventa una una gara proprio a tentare di spiegare il sì sì però sì però sai ecco sicuramente con le promesse lì con le promesse non mantenute che sono poi promesse della quotidianità sono quelle che più mi feriscono e credo siano anche quelle più difficili poi da recuperare beh la speranza oggi la vedo rappresentata sicuramente nella consapevolezza che tantissimi giovani hanno del futuro che vogliono del futuro che sperano soprattutto gli adolescenti no che sappiamo che c'è il sentimento dell'immortalità che un grande elemento che che contraddistingue no la la loro la loro esistenza ecco si sono accorti che questa immortalità può essere messa a rischio dalla finitudine del pianeta no e abbiamo visto in questi mesi ormai in questi anni tutto quello che c'è riguardo alla lotta contro il cambiamento climatico però non solo ecco la speranza la vedo in questi giovani e l'aver capito che per garantirsi un presente e un futuro è necessario diventare complici degli adulti spero che tanti adulti quindi parlo proprio alla mia generazione capiscono che bisogna essere complici dei dei ragazzi essere capaci noi anche di fare un passo indietro e dar loro però gli strumenti per per poter realizzare gli obiettivi e quindi realizzarsi come persone